Relativamente a questa cosa voi dovete considerare due cose. Primo, molto francamente se non fossi stato a Roma a registrare video sul campo, questa ragazza molto probabilmente avrebbe provato a scoparla la stessa. Secondo, e molto più importante, dovete sapere una cosa. Non vi posso dire la certezza relativamente a questa ragazza piuttosto che a un'altra, ma le ragazze finanzate in genere, e questa non è un buon esempio, nel senso che con questa l'interazione è stata molto positiva e secondo me è il tipo di ragazza che può fregarsi nel cazzo di metterle con un ragazzo. Ma in generale quelli che sono i numeri di ragazze finanzate che voi diventerete in grado di prendere sono numeri che sono meno responsivi, si abbassa la statistica che rispondano rispetto a un numero normale, perché si fanno le paranoie, perché pensano di essere zoccole, eccetera, 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 questo non ci interessa. Però allo stesso tempo ci sono anche ragazze che vi risponderanno, questo lo potreste aver già sperimentato magari, e una volta che rispondono è particolarmente game on. Dunque ragazzi, un paio di note. Il video, o meglio, estratto del video che tu hai appena visto, faceva parte di un seminario chiamato 90 giorni di azione che ho fatto molto tempo fa, poco dopo il mio arrivo in Italia, insomma, in quest'industria. Durante questo seminario, come puoi immaginare, i tempi erano strettissimi, nel senso che c'era lo script che avevo preparato, con le slide, c'erano le domande infinite degli studenti, c'erano i tempi dell'albergo, che per carità ci ha dato un'ora in più, però poi ci ha cacciati a pedate, e quindi ho dovuto tagliare corto. Ma oggi che ci troviamo su YouTube ti posso proporre un paio di cose in più, cioè un paio di cose in più che è importante dire in quella che è la mia esperienza, ok? Cioè, punto numero uno, una ragazza fidanzata potrebbe uscire con te solo per validazione, cioè tu prendi il numero, lei esce con te, ma in realtà, consciamente o inconsciamente, non vuole arrivare da nessuna parte. Oppure potrebbe uscire con te, ma non andare fino in fondo. Qui su YouTube devo stare sempre molto attento a quello che dico, ma in buona sostanza lei potrebbe arrivare a casa tua e poi cambia idea, si pente, si mette a piangere, tutte cose già viste. Come al tempo stesso ho già visto quella che è arrivata a casa mia, la chiama il fidanzato, geloso, incazzato, perché non sa dov'è, questa comunque mi si tromba e poi prende e se ne va. Nello specifico questa poi avrebbe anche voluto mollarlo, il fidanzato, per mettersi con me, ma questa è una storia che va al di là di quello che sto cercando di spiegarti. Quindi, in buona sostanza, perché ti sto dicendo tutte queste altre criticità, cioè quella al punto 1, che potrebbe uscire con te solo per validazione, o al punto 2, che potrebbe uscire con te ma non andare fino in fondo? Perché il valore aggiunto di un seduttore navigato sta nel riuscire, grazie all'esperienza, a, tra virgolette, fiutare tutte le situazioni dove si rischia di perdere tempo e dare la precedenza a situazioni più solide. Ti ricordo che la seduzione non è quella boiata del condurre a sé, ma è un processo di filtro. Parentesi, ragazzi. Qualcuno di voi potrebbe dire, si senti, Gioio, io ho capito il filtro, capisco tutto, però io voglio proprio quella ragazza fidanzata lì, o quella ragazza lì, quale che essa sia. Ma sto fiutando che non c'è tanta trippa per gatti, anche se un pochino di corda me la dà. E quindi qui, ragazzi, il concetto è semplice. Uno può anche decidere di provare una, tra virgolette, scommessa a tempo perso, ma almeno lo deve sapere prima. E questo non te lo posso insegnare io, o meglio, posso fare sicuramente in futuro, ammesso che non li abbia già fatti, un video, più video, su quelle che sono le red flags, che vi dicono che un appuntamento, in buona sostanza, è freddo e non caldo, ma in realtà, io ti dico la pura verità, purché tu lavori bene di volume, l'esperienza sarà la tua migliore amica, nel senso che il tuo cervello unirà i puntini e ti renderai benissimo conto di quelle che sono le red flags, quando una ragazza in realtà ti sta dando corda, ma questa corda, insomma, non arriva fino in fondo, capisci a me. Una nota, quanto appena detto finora vale per l'approccio a freddo? Quando invece tu sei a stretto contatto, tramite un gruppo sociale condiviso con una ragazza che è il ragazzo, e quando dico gruppo sociale condiviso può essere tutto, la palestra, l'università, il lavoro, un gruppo sociale condiviso che hai creato tu da zero, come spiego nel mio corso, social king, eccetera, 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 cioè hai la possibilità di rivedere la ragazza più e più volte in maniera cadenzata, e lei ha il ragazzo, ma si sta guardando in giro, allora le chance di successo si moltiplicano rispetto all'approccio a freddo, che sia di giorno, di notte, online, perché in realtà ci troviamo di fronte a una situazione nella pratica esperienziale mia, quantomeno completamente diversa, ok? Quindi non si tratta neanche di un passaggio dal giorno alla notte, è proprio molto, molto più efficace su questa casistica di ragazze, l'approccio a caldo. Poi ovvio che non tutte le ragazze si possono pescare a caldo, questo lo capisce anche un bambino. Ora, questo principio, relativamente a quello che sto cercando di spiegarti sulla maggior facilità di ottenere una ragazza fidanzata da a caldo, in gergo tecnico, dicevo, questo principio è noto come monkey branching. Ora, la cosa curiosa è, vi prego di perdonarmi chiunque sia all'ascolto, con questa metafora, in quanto non l'ho inventata io, monkey branching è un gergo tecnico inglese, americano, quello che è, e la metafora che sto per citare, questa me la raccontò per la prima volta, un natural, un ragazzo con cui io uscivo, è curioso che la cosa esista in entrambe le lingue. E lui, in questa metafora, che non vuole essere offensiva, non vuole paragonare le donne e le scimmie, tutti gli scrammer di questo mondo, per carità, ma lui diceva, le donne sono un po' come le scimmie nelle relazioni, non lasciano il ramo precedente prima che si sono aggrappate all'altro. Ora, una precisazione per te che sei all'ascolto come studente, quanto io ho appena detto, vale ovviamente solo se la ragazza, almeno al momento presente, ti vede come di valore superiore alla tua ragazza, e quindi ha un interesse specifico per te, perché se sei invisibile, rimani invisibile anche al netto di questo principio che ti ho appena spiegato. Se questo video ti è piaciuto, ti ricordo tre cose al volo. Uno, iscriviti al mio canale, telegrangio di Lorenzo, dove ti do informazioni che qui su YouTube non posso darti. Il link per iscriverti è gratuito e lo trovi in descrizione. Due, in descrizione trovi anche i links a tutti o quasi i miei corsi, dove ti spiego passo passo come imparare la seduzione con sistemi step by step. E tre, purtroppo hai i links in descrizione, non trovi tutti i corsi. Alcuni te li proponiamo solo se ti iscrivi alla newsletter. E rimani qui solo un secondo, perché ti sto per spiegare come fare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano e imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi, clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.